Mirando, Donno, sempre io, Pasquale e sempre Bianca. Stamattina proviamo questa cefeca di Zagottero, riproviamo perché l'abbiamo provato ieri sera. Vediamo un po' come va, ma non è emozionante come si fa. E' un po' strano, non lo vedete. 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 E' un po' strano. E' un po' strano. oh 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 andiamo a mettere sul tavolo, mettere il lasso, vai diciamo che è più preciso nel manovre è un po' più preciso del tricottero si può fare dei voli più avvicinati adesso per mettere sul tavolo si mette molto meglio eh ma c'è ripartissimo che c'è che vedi mi vengono a prendere vedi sera che volava ma era da trimmato se è stato prima di sera se fosse un dove era di un metro quadro che lo fai volare mi hanno dato il fuoco e la brucia e la brucia si a soffiarlo oh oh ah 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 senti forse la galeria va beh via basta vai aspetta sotterla sulla piaccola ok 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 ok